Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis, io sono Rob e questa è la mia recensione di The Heartful Escape. Devo dire che il gioco mi ha incuriosito fin dall'inizio, un titolo musicale disponibile su Game Pass che ci facesse vivere l'esperienza di un giovane che forse raccontasse una storia di formazione e secondo me in questo riesce a pieno. Noi impersoniamo Francis Vendary, nipote di un famosissimo Johnson Vendary che viveva a Calypso e che con la sua musica folk aveva entusiasmato il pubblico tanto che anche a distanza di tantissimi anni ancora il festival che si festeggiava in questa cittadina comunque prevedeva l'esibizione di musica folk e in particolare il nipote appunto sarebbe dovuto essere il suo erede, il suo erede spirituale ma anche materiale quindi suonare i pezzi dello zio e fare entusiasmare il pubblico che lo va a vedere ma questo ovviamente non può essere un elemento di felicità, di gioia, di realizzazione per Francis che vivendo invece nella sua epoca ha tutta un'altra idea e tuttavia però lui è anche famoso, ha un'identità ben precisa è anche una sorta di elemento importante all'interno di questa società e quindi passare da un'altra situazione oppure finire a fare qualcos'altro è comunque fonte di paura, di ansia rispetto al futuro che comunque è ignoto e però non è nemmeno quello che lui vuole fare quindi fra la tensione di una società esterna anche proprio in senso freudiano ad esempio come il superio funziona cioè un superio esterno che stabilisce che lui deve fare musica folk che deve prendere le orme dello zio e nuovamente entusiasmare il pubblico entusiasmare la cittadina di Calypso e dall'altra parte c'è la sua volontà a livello proprio emotivo a livello proprio di sensazioni di fuggire, di andare via di scappare da questo posto, da questa responsabilità e tutto questo poi si sviluppa nella possibilità gigantesca, infinita di visitare lo spazio e in questo fare un tipo di musica psichedelica bellissima, più del suo animo, che viene più da dentro che è veramente quello che lui vuole fare e questa sostanzialmente è la storia di Dartful Escape e cioè il cammino, il viaggio di Francis nella realizzazione personale e se tutto può sembrare semplicemente un viaggio bello da vedere bello anche da ascoltare con questi colori immensi, infiniti con questo universo da esplorare anche solo da percepire perché ovviamente poi non è che si può esplorare tutto ma si può percepire la vastità, la possibilità, la potenzialità che grazie anche alla musica di Francis si può realizzare poi di fatto chiaramente non è semplicemente un tipo di storia che vuole far vedere qualcosa, sentire qualcosa e basta o percepire qualcosa e basta a chi gioca ma è anche una storia che appunto vuole essere raccontata vuole formare, vuole portare dei messaggi positivi per Francis ovviamente all'interno del racconto ma anche per chi gioca e infatti tutto il sistema che ruota attorno a lui dal cosmopolmone che è l'astronave al personaggio di Lightman, al personaggio di Violetta che è la sua amica però anche un personaggio un po' schivo, estraneo che comunque ha i suoi risvolti psicologici tutti quanti sono rapportati a lui in un processo, in un percorso di crescita che lo deve portare da avere timore dal non voler essere se stessi a poi affrontare le proprie responsabilità la propria identità, la propria esistenza nella maniera migliore e più bella possibile ovviamente tutto questo è fatto però con una serie di alieni di divinità musicali dello spazio richieste che sia suonata la vera canzone che viene dall'animo del nostro protagonista e quindi tutto quanto è di base già abbastanza affascinante poi non dico oltre perché ovviamente il gioco vuole essere giocato e portato a compimento dal punto di vista di come effettivamente viene giocato e cioè il suo gameplay il gioco mostra un pochino il fianco a delle critiche non in senso fin troppo negativo perché comunque il gioco si lascia giocare ed è piacevolissimo ma di fatto quello che si fa è muoversi da destra a sinistra da sinistra a destra scivolando in queste zone 2D platform ma non c'è nemmeno un senso di sfida suonando ed è tutta una sorta di danza e di corsa suonata, cantata ballata anche da alcuni personaggi e musicata che è sicuramente affascinante bellissima il mixaggio sonoro è eccellente la colonna sonora allo stesso modo anche la grafica, anche più che altro le scelte stilistiche con colori sgargianti psichedelici situazioni folli anche dal punto di vista dei contenuti che riescono comunque a far passare quelle 6-7 ore forse anche un pochino meno che ci vogliono a completare il gioco in maniera abbastanza fluida certo però dal punto di vista del video giocare c'è veramente molto poco ma un gioco indie un gioco che vuole raccontare qualcosa non ha per forza di cose necessità di un livello di sfida anche quello che riguarda la sfida musicale di fatto si tratta di seguire una sequenza e di premere i giusti tasti non c'è nemmeno una difficoltà fin troppo elevata nel senso che non c'è nemmeno una punizione elevata se si sbaglia si fa quella piccola sezione proprio di nuovo quindi non c'è possibilità di non portarlo a compimento il gioco si lascia veramente giocale perché vuole raccontare questa storia vuole mostrare questo universo e secondo me in questo riesce benissimo ripeto la questione di critica è semplicemente sulla portata effettiva di quest'opera infatti il mio voto per The Heartful Escape è di 67 su 100 che però non vuole testimoniare un gioco che non è bello un gioco che non debba essere giocato un gioco che non riesce nel suo intento semplicemente dobbiamo anche considerare proprio la portata e per portata intendo ciò che effettivamente è presente chiaramente nelle varie opere ci sarà qualcosa che vuole essere la totalità il gioco perfetto completo che unisce bene una trama molto profonda a un gameplay molto profondo e quel gioco ovviamente avrà più possibilità di eseguire di avere un voto alto ma dall'altra parte anche titoli che non riescono del tutto magari nelle componenti che invece provano ad allargare cioè provano a costruire qualcosa di più e poi falliscono magari finiscono a prendere anche meno di The Heartful Escape perché magari un gameplay che vuole usare di più però poi non funziona e a quel punto allora prende anche l'insufficienza cosa che nel gameplay The Heartful Escape non ha quindi questo voto che io do The Heartful Escape non deve far pensare a un gioco brutto a un gioco svilito semplicemente non basta chiaramente avere una storia buona per prendere il massimo dei voti non basta avere un gameplay accettabile per prendere il massimo dei voti e ovviamente per tutto il resto il massimo dei voti lo prende ovviamente chi fa tutto perfettamente è evidente e chi fa il capolavoro della storia dei videogiochi questo titolo è un titolo che va giocato e che quando siamo sopra la sufficienza nel mio sistema dei voti ma dovrebbe essere così normalmente perché se la sufficienza è a 6 cosa che normalmente è sopra la sufficienza siamo di fronte a un titolo buono che ha delle componenti positive come appunto dicevo la trama l'artisticità l'estetica del gioco è sicuramente eccellente il mixaggio sonoro il sonoro e la crona sonora sono eccellenti ma che dall'altra parte è una una sorta di camminata corsa perenne senza particolari sbocchi io sono soddisfatto del voto che do nel senso a me non pesa vedere o non peserebbe vedere un 67 attribuito a questo gioco e non penserei che si sta parlando di un gioco brutto vedrei ovviamente di che cosa si tratta e lo giocherei quindi dal mio punto di vista il voto appunto è di 67 su 100 che testimonia un titolo da giocare un titolo che spero giocherete che scoprirete anche perché è disponibile su Game Pass quindi veramente non non ci vuole niente nemmeno un grandissimo investimento se non quello del Game Pass ma che comunque ha i suoi difetti o ha la sua non tanto difetti ma ha quanto proprio la sua semplicità discorsi che ho fatto anche per altri per altri videogiochi semplicemente il fatto che alcune componenti sono quelle lì cioè sono semplici o buone ma nulla di più e in questo caso per molte di loro vale questo criterio in particolar modo per il gameplay fatemi sapere voi nei commenti se avete giocato questo gioco se siete intenzionati a giocarlo come vi sembra e cosa ne pensate io ho portato anche tutta la il walkthrough il mio gameplay di The Heartful Escape e ve lo metto ovviamente qua sopra come playlist iscrivetevi al canale per supportarmi iscrivetevi anche a gli altri seguitemi anche sugli altri canali ad esempio quello delle live ma anche su Telegram dove possiamo approfondire i nostri discorsi anche su Instagram vi lascio tutti i link qui in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti